I don't see Siamo anche nei primissimi giorni dell'anno straordinario della misericordia con, forse abbiamo tutti visto, l'apertura della Porta Santa a Roma ma c'era già stata l'apertura della Porta Santa nella Repubblica Centroafricana, un anno in cui siamo invitati a riscoprire non il giudizio ma la misericordia. E tu hai aperto anche tu qualche porta nella tua parrocchia? Sì, abbiamo aperto le porte ma soprattutto lo scopo è non aprirle per entrare in chiesa, quello già avviene quasi tutte le domeniche, ma aprire per uscirle, per uscire dalla chiesa e portare fuori quel messaggio che cambia la nostra vita. Perché più delle volte quando entriamo in chiesa arriviamo con le fatiche, le gioie di una settimana ma anche con i nostri limiti, le nostre povertà, le nostre miserie e invece quando usciamo dovremo uscirne tutti un po' arricchiti. Tanto più che questa terza domenica di avvento è la domenica della gioia, no? E allora quale gioia più grande può avere un cristiano se non uscendo dalle celebrazioni che portare il messaggio di Gesù e la presenza di Gesù nella nostra vita. Aggiungo solo che a me è piaciuta molto la data, l'8 dicembre, perché è l'immacolata concezione, guardare a Maria come colei che ci prende per mano, creatura come noi, per portarci al figlio suo Gesù è molto bello. E poi però altrettanto erano i 50 anni del concilio Vaticano II, quando già 50 anni fa quel vecchiettino di Giovanni XXIII, Papa Santo, lungimirante, profondo, di grande valore umano, spirituale, aveva trovato una parola significativa per cambiare la vita della Chiesa che era la parola aggiornamento. Oggi ancora, dopo 50 anni, abbiamo bisogno di aggiornamento. E l'aggiornamento era non approfondire le telematiche, le culture mediali, ma era portare la Chiesa vicino alla gente e che la Chiesa fosse in mezzo alla gente. Mi sembra che questo sia ancora lo spirito con cui il Giubileo si apre e che porta prima di tutto l'amore di Dio per ogni uomo e il suo perdono. Sì, ricordiamo appunto il Papa in modo sorprendente, secondo gli esperti e gli storici, ma anche secondo noi, è andato nella Repubblica Centroafricana, non nella Repubblica di San Marino, ad aprire la prima porta, una delle zone più conflittuali dell'Africa, eccetera, proprio per andare, come dicevi tu, là dove la gente vive. Faremo avere questa puntata anche a Papa Francesco in modo che possa recuperare su questo aspetto in questo anno e magari aprire una porta in uscita o un qualche cosa. Io ho qui con me un testo di Don Tonino Bello, che tu parlavi della festa dell'8 dicembre, mi sembra quasi attuale, anche se ha quasi 30 anni questo testo, quando Don Tonino diceva Santa Maria, donna accogliente, lo sappiamo, è la paura del nuovo a renderci spesso inospitali nei confronti del Signore che viene. I cambiamenti ci danno fastidio, rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli, noi sperimentiamo tempi difficili in cui il pericolo di essere defraudati dalla cattiveria della gente ci fa vivere tra porte blindate e sistemi di sicurezza, non ci fidiamo più dell'altro. Porte aperte con l'anno santo, ma un clima di paura, di diffidenza, e Papa Francesco vuol dire che non dobbiamo avere paura, ma il clima proprio dell'altro come un potenziale nemico. Le vicende anche francesi dopo l'attentato a Parigi, il ritorno di chi invoca la pena di morte, di chi, come dagli Stati Uniti, dice chiudiamo le porte a tutti gli islamici e chiudiamo anche internet. Ecco, credo che questo anno della misericordia ci debba aiutare a non perdere la dimensione umana. Tra l'altro il 10 dicembre è stato il giorno, l'anniversario della proclamazione dei diritti dell'uomo. Credo che non dobbiamo oscurare tutto questo. Ma a me piaceva anche ricordare, non è farina del mio sacco, l'ho letto da qualche studioso, che commentando il Vangelo dell'altra domenica, dove venivano elencati i potenti di allora, l'imperatore, Erode, Lisagna, della Traconitide, eccetera, eccetera, veniva fatto un elenco di sette persone importanti, e sappiamo il numero 7 che valore ha, mentre poi, dice il Vangelo, lo spirito del Signore scelse Giovanni nel deserto. Potremmo dire il G7, il G8, il G20, in questi giorni a Parigi, il clima, eccetera. I potenti ragionano e vorrebbero farci ragionare in un certo modo, lo spirito del Signore soffia da un'altra parte, su Giovanni nel deserto. Eh sì, ma guarda che i potenti li rendiamo tali noi, cioè non è che sono potenti perché sono potenti, sono potenti perché vengono eletti, la gente sceglie e poi gli si permette di fare quello che vogliono, abbastanza così nell'interesse proprio, nell'interesse di alcuni, forse è meglio dire, e però noi partecipiamo in un certo modo con la nostra indifferenza, con la nostra passività, tutto sommato. E quindi è vero che la parola entra nel silenzio del deserto, ma quella parola entra in quel silenzio del deserto perché quel silenzio e quel deserto cambiano la storia dei potenti. Cioè non è che scegli due posti diversi, è proprio perché tu sei nato lì che devi portare questo annuncio più grande ancora là fuori, nella storia, perché il Signore si incarna nella storia e questa è la grandezza e la bellezza del cristianesimo. Non è che si incarna distaccato dalla storia e solo chi ha Cristo dentro di sé davvero cambia la storia perché prima di tutto ha cambiato il suo cuore, la sua vita, altrimenti rimane egoista. A me sembra che ci siano due fotografie belle di questo inizio di giubileo, saranno brevissimo. La prima è di questa senatrice americana che ha pubblicato la foto di tutta la sua famiglia con tutti i abiti rossi, tutti armati, dai più piccoli ai più grandi. C'è un mondo che sceglie quello, in piena libertà, di cui poi verificherà se stesso, la coscienza personale, anche quella collettiva nel mondo, delle cose che produce. E poi la foto quasi anonima di questa dottoressa di Novara che è morta salvando la vita dei suoi genitori mentre l'aggredivano, mentre era in un posto in Kenya a prestare servizio di volontariato, a rendere le sue capacità, il suo talento medico al servizio dei più poveri e degli ultimi. Ecco, sono due fotografie di un mondo che va con marce diverse. Personalmente noi credo siamo vicini a questa dottoressa, ai valori che essa incarnava, per parlare ancora di incarnazione, e un po' più distanti da chi pensa che con le armi si risolvano i problemi. Per una volta dico io contro le armi, va bene Don Renato, posso? Perché se no, ma penso che davvero, noi siamo davanti a certe foto di persone armate, siamo disarmati, in tutti i sensi. Vorremmo che il nostro Natale, il nostro avvento, la nostra attesa, la misericordia, che questo incontro fra due parole, miseria e cuore, dove l'uomo porta la miseria e Dio offre il suo cuore per sanare quella miseria, portasse valori alti in tutti noi. Io cercherò di convertirmi in questo anno. Sarà dura perché soffro di sclerocardia, cioè durezza del cuore, ma ce la metterò tutta, ce la metterò tutta. Noi confidiamo nella misericordia del Padre e per restare quello che dicevi tu, parlavi dell'incarnazione, non possiamo dimenticare, poi avremo modo di ritrovarci ancora prima di Natale, dimenticare che Gesù nasce a Betlemme, c'è un luogo concreto, ci sono delle persone concrete che vanno o non vanno a incontrare Gesù e quindi anche tutte queste polemiche del presepe di questi giorni un po' strumentali, mentre il presepe è la festa della non accoglienza di un Dio che trova le porte chiuse a Betlemme. Allora, visto che ne avevamo già parlato, volevo condividere con te questa scelta di appoggiare il tuo, vostro progetto, Assist for Peace, che vuol dire calcisticamente? L'ultimo passaggio prima del gol, il gol è la pace. Tipo quello della Juve l'altra sera? Proseguiamo con la trasmissione. Allora, parlando di cose serie, ma sempre di calcio, è in progetto questo centro sportivo a Gerusalemme che si vuole realizzare con la collaborazione di tante persone. Allora, noi a Cesara, che lo ricordiamo e lo vediamo anche su questo volantino, da 27 anni abbiamo la nostra iniziativa contro la fame, cambia la vita e spegni le luci. Quest'anno abbiamo deciso di destinare i soldi che verranno raccolti a questo progetto del passaggio per la pace di un centro sportivo a Gerusalemme, dove giocheranno ebrei, musulmani e cristiani, magari anche Don Angelo, vediamo se lo convocano, e poi anche alcune famiglie in difficoltà economica. Invece dello spreco, leggevo in questi giorni che un sindaco, non della nostra zona, di una cittadina, era orgoglioso di aver speso 38 mila euro per le luminarie. Forse un passaggio per la pace lo poteva fare. E invece tu hai in programma anche, mi sembra, un coro nella tua parrocchia dove canti tu, forse? No, 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 però abbiamo invitato questi amici, sono quattro anni che la parrocchia di Giffa fa il concerto gospel, e quest'anno abbiamo cambiato il gruppo, si chiamano Gospel Four, è un gruppo, è un'occasione per noi di fare festa. La parrocchia ben volentieri investe in cultura, investe in arte, investe in bellezza, perché la bellezza, come diceva qualcuno più intelligente di me, ci salverà. E io sono convinto che più cose belle facciamo, più cose che aiutano la gente a crescere, ad avere qualità nelle famiglie, e più tanti altri problemi che abbiamo, in qualche modo si possono appianare. E quindi siete invitati, l'ingresso è gratuito, la sera del venerdì 18 dicembre. Qualche giorno prima in città ci sarà un grande concerto gospel, invece con un grande gruppo, ma noi manteniamo questa tradizione, che da quattro anni abbiamo, di dare l'occasione agli abitanti, che lo volessero di Giffa e non solo, di festeggiare insieme il Natale. Stiamo finendo, Don Renato, la puntata, io lascio a te i messaggi finali, ti dico solo che Assist for Peace piano piano procede, non dico di più, piano piano procede, speriamo che davvero arrivino dei fondi che ci permettono di realizzare almeno una prima parte, cioè almeno il campetto da calcio, poi da lì vedremo. Intanto ne approfitto per fare un grosso abbraccio agli amici di Terra Santa, cristiani, musulmani, ebrei, e ne approfitto per ricordare ancora con affetto un buon avvento a Padre Paolo Dall'Oglio, ovunque sia, e nel suo nome a tante altre persone che vivono il dramma che sta vivendo lui. Sì, io mi unisco a Don Angelo, salutando anche tutte le persone del nostro territorio, spesso ci capita, camminando per strada, di incontrare persone che seguono non di solo pane, ma sappiamo che viene seguito anche qualche volta in carcere, da persone anziane, da persone giovani, da persone ammalate, da qualcuno che magari sente una parola un po' diversa, in televisione a volte vengono dette cose scontate, l'altra sera abbiamo assistito al mettere a tacere chi parlava delle armi italiane vendute dall'Arabia Saudita, come dire, è un tabù, forse noi invece lo possiamo dire con più serenità, il grande business delle armi, dei grandi interessi, e l'augurio è che ci prepariamo bene a vivere questo tempo, non diciamo Buon Natale, adesso intanto prepariamoci, e poi abbiamo anche l'appuntamento di Capodanno, ogni anno Pax Christi organizza la Marcia Nazionale per la Pace, quest'anno sarà a Molfetta, un convegno dei giorni precedenti, con tanti testimoni, ci sarà anche Don Ciotti, e la notte di Capodanno, nella diocesi che fu di Don Tonino Bello, a Molfetta, vicino Bari, richiameremo a noi, alle nostre coscienze e al mondo, che dobbiamo vincere l'indifferenza e conquistare la pace, questo è il tema della giornata della pace, quindi noi ci rivediamo, o a Molfetta, o in Terra Santa, o nei nostri territori, e buona continuazione dell'Avvento. Un abbraccio a tutti, e ricordiamo anche la figura di Don Gregorio Pettinaroli, a lungo, vicario generale della nostra diocesi, che viverà questo Natale dal Paradiso. Grazie Don Gregorio di quello che hai fatto per la nostra comunità, e buon proseguimento a tutti voi che ci avete seguito, con affetto e pazienza. E per concludere, Don Renato, il giubileo inizia con il suono del corno, lo Yobel. Concludiamo, faccio io, che sono esperto in Yobel. Buon anno della misericordia a tutti.